No, 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 no. Ehi, ehi, ehi. È governo. È marzo. L'ho detto io. Perfect timing. Olè. Prova, prova, prova. Chi siete? E ciao ragazzi, sono Zene e bentornati in questo video. E sì, in questo momento ragazzi stiate per vedere la intro più strana del mio canale. Perché in questo momento sto facendo una intro in full cam, non da casa mia. Infatti ragazzi sono al mare in questo momento Però sono qua per dirvi due cose Veramente importantissime La prima che ovviamente ragazzi Non sono scomparso Semplicemente mi sono preso un po' di giorni di pausa per Ma dove devo guardare? Qua mi so Mi sono preso dei giorni di pausa per ricaricare le mie energie al massimo Per poi appunto tornare a settembre a caricare video regolarmente Con la massima frequenza Con la massima qualità E ragazzi se ci siete e siete rimasti Mi raccomando lasciate un bel mi piace Controvatevi per lasciare un bel mi piace Condividi questo video con un tuo amico E iscriviti sotto nei commenti Hashtag ci sono Hashtag ci sono Quindi tutti quanti nei commenti ragazzi Hashtag ci sono Mamma mia mi ferma la mano Ma come fanno i vlog? Ah perché c'hanno l'hashtag Giusto Detto questo appunto non sono scomparso Continuerò a caricare video leggermente un po' così in questo periodo Ma da settembre ragazzi tornerò a caricare un video al giorno Quindi quando tornerete a fare i compiti Ci sarò sempre io Vabbè vi farmi assenervi Dai io E la seconda cosa che vi volevo dire Che in questo video vi mostrerò Le clip migliori durante la maratona Delle ultime settimane Perché la maratona è durata tipo tre settimane Assurdo Follia L'ultimissima cosa poi vi lascio con il video Ragazzi veramente Grazie mille di cuore a tutti quanti quelli che hanno partecipato alla live Anche solo quelli che hanno guardato la live e basta Senza neanche donare Solo quelli che hanno guardato la live Per tantissimo tempo Vi ringrazio veramente tutti quanti E ovviamente ringrazio tutti i top donator Detto questo veramente Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato a questa maratona A tutti quelli che hanno supportato Sia con le donazioni incredibili Grazie mille E soprattutto anche a tutti quelli che appunto hanno guardato la live E anche solo quelli che ci sono abbonati in modo gratuito e col Prime Grazie mille a tutti per questa fantastica maratona Spero di farne altre Molto presto Detto questo Vedete i comodi Vedete qualcosa di buono a mangiare Una bella cucchina fresca fresca Anche se questa non è più fresca E buona giornata Ciao Non c'è di niente Faccina che ride a crepa pelle Mi sono iscritto a danza L'ho fatto per la panza A me 2 ore così di fine Aaaaaaah Guardami qua Guardami qua Guarda me Bastardi Non riesco a passare No! 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 Sì! No! Sì! No! No! No, no, frate no, no in camera mia no, no, no frate, grazie, e qua abbiamo sgravato, no, 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 ehi, a cos'è che stai giocando? Al gioco di tua madre, al gioco di? Tua madre, al gioco di? Quella grandissima, porca miseriaccia di tua madre, oh, devi sapere, oh, si, casa tua, si vettila, cosa stai giocando? Al gioco di tua madre, guarda, c'è il suo artitto lì sopra, ma poi potrai vestirti ogni volta, ci sono 40 gradi, in camera mia no, eh, tua no, in camera mia no, eh, tesci la camera mia, eh, lascia, no, no, te devo pulire per terra, dai, lo metto via, dai, lo porto via, dai, lo porto, ma dimmi che gioco sei tu, non so, non parte, dimmi a tu, che gioco è? Allora, facciamo iniziare a tavola Piglio, 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 che cos'è, un uovo? Ma non sa, è un uovo? È marzo Prenditi Dai in testa Cazzo Parlando della song, what? Non ho mai visto fare zly, zly morirò a fianco di un mio bro, non c'è niente che posso fermarci, of course Allora, bro Vuoi rimorchiare? Innanzitutto, devi essere figo come me E per essere figo come me, ce ne vuole Seconda cosa Devi avere questi occhiali fighissimi Sì Ho comunque degli occhiali così Terza cosa, devi avere l'attitude L'attitude davvero manzo Se non hai quella Mi dispiace, ma Non ce la puoi fare Cosa intendo per attitude? Devi andare lì E dire Ehi baby Vuoi uscire con me? Quanto rilassante Mcmire, vuoi giocare a Sambola? Anche tu? Ciao, sono ZNSG Sono un player di Fortnite Ma faccio schifo E sono un nuovo vostro vicino E se avete bisogno di qualsiasi cosa Noi ci siamo E se vi disturbiamo Ditecelo pure Che cerchiamo di fare meno casino Ciao, buona giornata Ciao Mi giro al piano 1000 bit 3 2 1 Oh Oh Eccoli qua Te l'ho detto io Perfect timing Olè È finito No, giro E Non hai bruciato I I Fatti Che mi Teccio Schifo Vabbè Non me la ricordavo Così sta mappa ragazzi Incredibile Ma cos'è sto gioco Assurdo Cobra Dove è la Sakosh? Dove è la Sakosh? M***a l'MK C'è la Sakosh Non è vero Voglio prendere ragazzi C'è Il nuovo Maranza sta arrivando Bebe Dimmi che succede Porco diaz Mi sono cagato in mano Figa È troppo facile Non ha senso Che È vero È troppo facile E no Volevo dire Porco diaz Che È vero È troppo facile Fermi Fermi Allora Esatto Esatto Aia 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 Fai Fai No Vaffanculo Si può stopare con il lato Se vediamo Aia 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 La